al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. O modello dei penitenti, gloriosa Magdalena, che, piangendo con lacrime le più amare, con la contrizione più viva dei vostri errori, meritaste di essere da Gesù Cristo, medesimo assicurata di un assoluto perdono. Otteneteci. Vi preghiamo. La grazia di detestare. E piangere incessantemente tutti i nostri falli. Onde assicurarcene la remissione al Tribunale di Dio. Gloria al Padre. Al Figlio. E allo Spirito Santo. Come era nel principio. Ora e sempre. Nei secoli dei secoli. Amen. Grazie a tutti.